La lombalgia, il comunissimo mal di schiena, è un dolore muscolo scheletrico a livello della regione lombosacrale. La diagnosi per lombalgia è una diagnosi prettamente clinica, quindi si effettua tramite un esame obiettivo del paziente e un esame posturale. Oggi in questo siamo molto aiutati perché esistono delle apparecchiature, degli scanner, che ci consentono un'analisi perfetta della postura del soggetto e quindi un'analisi perfetta delle eventuali alterazioni posturali del paziente. Diagnosi poi si fa anche su un esame radiografico. L'esame radiografico di primo livello, cioè una semplice radiografia della colonna lombosacrale. I fattori di rischio, soprattutto i fattori di rischio di cronicizzazione, sono le posture errate, soprattutto il mantenere le posture errate, perché questo comporta una tensione muscolare che si prolunga nel tempo, la quale altera poi l'equilibrio muscolare e determina il dolore. Un stato fisico scadente perché mantenere una forma fisica buona e quindi un buon tono muscolare salvaguarda la nostra colonna vertebrale. Lo stress perché va ad agire molte volte su posture già alterate. I fattori di rischio sono il fumo. Il trattamento della lombagia è un trattamento che deve essere fatto a 360 gradi, per cui deve interessare l'ortopedico, perché è il primo step che il paziente va ad affrontare, ma deve coinvolgere anche il fisioterapista, l'osteopata, il nutrizionista, fino anche allo psicologo, perché deve portare il paziente ad annullare tutti quegli input negativi che gli comportano una cronicizzazione.